Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in un nuovo video dedicato alle energy drink. Oggi sono qui ragazzi per un video davvero speciale. Il mio caro amico Davide mi ha inviato delle lattine strepitose. Link al suo profilo Instagram perché davvero dei contenuti così sono qualcosa di assurdo. Quindi ragazzi mi raccomando chiedo supporto perché qua dentro adesso vedremo delle bestie strepitose. Ragazzi come al solito direi di aprire il nostro pacco e di vedere cosa si cela al suo interno. Ragazzi ed eccole qui le nostre lattine. Ce ne sono tre all'interno di questo, ce ne stanno due e qua da come potete leggere troviamo la Solaris. Quindi adesso le apriremo. Come sempre ringrazio Davide per averle imballate davvero molto bene perché sono contentissimo che venga preservato in maniera veramente totale l'integrità dei miei pezzi della collezione perché ci tengo davvero tanto che comunque le lattine arrivino in condizioni impeccabili. Grazie di cuore Davide. Ragazzi direi di vedere subito le nostre lattine. Le abbiamo qui tre davvero esplosive. Partiamo con questa, la Solaris che completa definitivamente la mia collezione di Max. Ho provato la Super Dry, la Mangomatic, la Rad Red, la Eclipse. La Solaris completa il mio set finalmente tra le mie mani. Direi di passare invece un'altra lattina che mi piaceva molto e che finalmente adesso ho. Ovvero la Punch Baller's Blend. Questa qua è molto bella, mi piace il suo design. Poi lo visioneremo bene in un altro video. Però ragazzi anche questa è tanta tanta roba. E per concludere in bellezza non potevo non mostrarvi il pezzo forte. Ovvero questa qui. La Mixed del 2005. Questa è molto molto vecchia e completa il mio set ovviamente di Mixed. Così ho tutte e tre le versioni. guardate che bella. Questa è molto molto bella. Mi piace un sacco. Poi viola così. È stupenda. Che dire ragazzi? Mi raccomando restate sintonizzati per non perdervi nessun video. Qui abbiamo dei contenuti davvero particolari, unici, lattine strepitose che meritano di essere recensite. Io come al solito ringrazio di cuore Davide per avermi inviato queste bestie. Quindi ragazzi link al suo profilo Instagram e mi raccomando supporto ragazzi supporto perché questi contenuti sono esclusivi. Noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!